Eccoci, allora, non avrei mai immaginato in realtà di mettermi qui e di registrare un altro video dopo quello della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che comunque trovate qui sopra nelle schede come al solito. Però, ovviamente, quello che è accaduto poi a pranzo mi ha portato qui da voi. Voglio essere molto onesto e sincero con voi, io la partita non l'ho vista in diretta, in realtà non l'ho vista e basta, però ero a pranzo a casa dei parenti della mia fidanzata e mentre si mangiava tra una portata e l'altra un occhio lo buttavo sull'Inter, fino a che il nonno della mia fidanzata non mi ha detto guarda che Lella Sverona ha pareggiato. E allora sono andato a tirare fuori il telefono e ho visto che effettivamente mancavano 10 minuti, 12 per esattezza al termine della gara, e ho attivato Dazon all'interno del mio cellulare e mi sono guardato un pochettino in diretta quello che stava accadendo. Fino a che, anche qui mi ha fatto molto ridere, si vede che la mia connessione o comunque Dazon arriva in ritardo rispetto all'applicazione che stava guardando il nome della mia ragazza per monitorare il risultato, e mi dice, ecco, 2-1 dell'Inter, te l'avevo detto che l'Inter non avrebbe perso, a che io guardo il telefono, c'è ancora la partita sotto e dico, ma no, è impossibile, io leggo ancora 1-1 e nel mentre che dico questo l'Inter prende la traversa, perché nell'azione del gol del 2-1 c'è pure una traversa dell'Inter, al che poi invece vedo che l'Inter segna, con frattesi, e il nonno dice, aspetta, aspetta, c'è un controllo in corso, io lì per lì non l'avevo visto, perché ovviamente lo stai guardando su un dispositivo piccolo, stai guardando con la coda dell'occhio, poi parte il replay e dico, no, vabbè, dovrebbe essere tutto regolare dal punto di vista del fuorigioco, però vedo che un giocatore dell'Elas Verone è a terra, quando poi vedo effettivamente il replay, penso, vabbè, d'accordo, è impossibile che questo gol non venga annullato, tra l'altro si è parlato di controlli, quindi sicuramente questo gol verrà annullato, quando è stato convalidato questo gol sono rimasto stupito. La partita poi è andata per le lunghe, io al gol a porta vuota divorato dall'Inter ho spento, pensando, vabbè, ormai è finita, e mai avrei immaginato invece una partita così infinita con il rigore sbagliato anche dal Verona, quindi tutto questo per fortuna non me lo sono visto, perché ho detto, vabbè, dai, ormai è finita, sarei stato molto più contento invece di sapere che l'Elas aveva segnato sul rigore nel mentre che non stavo guardando, quindi non è colpa mia il rigore sbagliato da Lella, scusi, non dite, ecco, è acceso, l'Inter ha fatto gol l'Elas ha sbagliato il rigore, no, assolutamente no, quello non dipende da me, quello non l'ho visto, però poi guardando effettivamente quell'episodio specifico, ho detto, cavolo ragazzi, ma com'è possibile che al VAR non veda una roba del genere? Io nelle settimane scorse vi ho parlato un pochettino di quella che è, la mia posizione, voglio ribadirla con forza, io non credo che questo campionato sia manipolato, io ho letto troppi tifosi della Juventus che mi parlano di campionato deciso, già scritto, e la cosa che mi deprime, perché mi deprime questa cosa, è che tanti di questi tifosi sono tra quelli, faccio riferimento più a quello che mi appare su Twitter, sono tra quelli che invece quando la Juve vinceva andavano un po' per culare gli altri, dicendo che l'arbitro era la scusa dei perdenti, quella stessa categoria di tifosi, ma dico questo perché ci sono davvero degli account che mi ricordo che storicamente rituitavano, commentavano i post di altri tifosi di altre squadre, che quando c'era un episodio, in quel caso a favore della Juve, andavano lì a dire e adesso invece guardano al complotto, e queste cose non piacciono, perché allora si è due facce della stessa medaglia, come ho già detto nelle settimane scorse, che cambiano a seconda di quelli che sono i colori della maglia. Voglio che questa cosa sia ben chiara, io non penso che l'Inter stia comandando il campionato, che Marotta stia comandando il campionato, che ci sia della malafede nelle scelte da parte degli arbitri, non lo penso, non lo penso assolutamente, se no smetterei di guardare questa roba, che senso ha guardare una roba che per me è manipolata, è pilotata, non la guardo, risparmio del tempo e faccio prima, e ne vado anche a beneficiare dal punto di vista psicologico. Poi, se devo analizzare quelle che sono banalmente le ultime due partite dell'Inter, per me ci sono stati degli episodi arbitrali, più che arbitrali io parlerò di episodi di VAR, che sono fortemente impattanti in quella che è la classifica, a maggior ragione di un campionato così tirato, avvincente, in cui due squadre si stanno veramente inseguendo l'un l'altra, mantenendo anche un ritmo abbastanza elevato, perché le proiezioni sono abbastanza alte, sia di Juve che di Inter, e dispiace che poi ci siano degli episodi di questo tipo che vadano un po' ad alterare. Ma attenzione, ricorderete Juventus Bologna, mi sono seduto qui e con tutta l'onestà del mondo vi ho detto, non riesco a capire come non abbiano espulso Healing e non abbia andato in rigore al Bologna di quell'entrata di Healing in area, lo stesso Healing poi andrà a servire l'assist dell'1-1 sulla testa di Ujan Vlaovic facendo pareggiare la Juventus. Quindi non venitemi a dire che, no, perché lo sapete benissimo come sono fatto quando c'è un episodio, lo commentiamo, non mi piace parlare degli arbitri, lo sapete, preferisco parlare di campo, e la roba del campo arriverà sul finale di questo video. Però è ovvio che quando ci sono situazioni di questo tipo sono anche costretto a parlarne. Quello di Bissek l'ho trattato molto marginalmente, vi ho semplicemente detto che, tra l'altro ho fatto l'analisi di quella partita, che per me quello era fallo e che andava fischiato, stop, mi sono fermato lì. Quello di oggi mi sembra molto grave. E ripeto, non per un discorso di mala fede e bla bla, ma proprio per un discorso di gestione del VAR. Come fai a non richiamare l'attenzione dell'arbitro su un episodio del genere? Bastoni non è stato proprio il migliore al mondo, così come non mi è piaciuta nemmeno la reazione, questa l'ho vista indifferita di Di Marco e di un altro giocatore dell'Inter che non ho percepito nei confronti di Henry dopo l'errore dal dischetto che gli va ad esultare in faccia, un po' come era successo con Gagliardini e Rabiot, quando poi la Juventus invece aveva recuperato in extremis la partita. È stato molto molto bello, diciamoci la verità, perché Gagliardini aveva fatto una vigliaccata, per quanto mi riguarda. E quindi quello è un episodio grave, secondo me questo è un episodio grave che va anche un po' a rovinare quello che è questo campionato. Poi non so se dire purtroppo per fortuna, purtroppo perché è sbagliato, per fortuna perché c'è stata l'occasione, il Verona poteva anche salvare il risultato e andare a chiudere sul 2-2 dopo un'espulsione di Lazovic, quindi anche in 10 con uno sforzo incredibile. E ha mancato il match point sul finale, sarebbe stato clamoroso e sarebbe stato bellissimo per me che avevo già chiuso l'app senza speranze avere questa botta di adrenalina pura in attesa di un salaritano a Juventus che diventa molto pesante per noi, anche proprio dal punto di vista psicologico. Lo sappiamo, quando siamo delle partite del genere poi il rischio c'è sempre delle partite del genere, intendo in cui fino all'ultimo risultato è in bilico e si spera, si pensa che la contendente possa lasciare dei punti per strada. Faccio proprio un riferimento a un Inter-Juve, anche quello passato alla storia, vedete come, perché poi le cose mi fanno arrabbiare, noi abbiamo rubato, no? Quello scudetto nei confronti del Napoli, perché? Perché Piani ce l'ho stato espulso. Quello è passato alla storia come scudetto rubato, perché Piani ce l'ho stato espulso. Ma il Napoli il giorno dopo ne prende tre a Firenze, proprio perché non è riuscito a mantenere quel passo psicologico, anche se stavamo parlando di una gara di fine campionato, in cui mancava veramente pochissimo al termine della stagione. Quindi rimaniamo concentrati perché io sono convinto che i calciatori della Juventus e lo stesso Allegri, mentre stanno andando a Salerno, le orecchie, le antenne dritte sulla partita dell'Inter, gli aggiornamenti, magari non la vedono, magari la vedono, non so, un aereo, un treno, quello che sarà il Pullman o semplicemente dei messaggi, sta succedendo questo, manca tot, lo fanno perché è giusto che rimangano concentrati, è giusto che in tempo reale vadano a seguire queste cose e per me c'è una squadra dietro, pure giusto che la guffino, vi dico la verità, in una corsa del genere. Quindi stiamo concentrati perché il fatto di aver avuto il risultato in bilico fino alla fine potrebbe essere controproducente per una squadra che ancora non è pronta a vincere, come non lo era il Napoli all'epoca e come non so se lo è la Juventus oggi, vediamo domani con la Salernitana. Però lasciando da parte, lasciando stare questo episodio che abbiamo già ampiamente commentato e discusso, e ripeto per me in epoca VAR, anzi sono curioso di sapere, di sentire gli audio open VAR, anche se mi fanno sempre arrabbiare perché mi rendo conto di quanto siano scarse le persone che sono lì e credo che il VAR abbia dei problemi, il VAR vada rivisto, ma non è un discorso Juve, Milan, Inter, Lazio, Napoli, Roma, è un discorso proprio in generale, ma è una mia battaglia da anni, il VAR ormai quanti anni è che c'è? 6, 7, 8, ho perso il conto, ha creato più danni che resto, è uno strumento che dovrebbe aiutare gli arbitri a creare più confusione. Questa è una mia battaglia, la lascio da parte, il protocollo VAR va rivisto punto e stop. Ho trovato su Twitter questo post del direttore Fabio Villani, un abbraccio Fabio, che volevo commentare insieme a voi perché dice l'impressione è che comunque l'Inter sia una squadra mentalmente molto più debole rispetto a solo 15-20 giorni fa. Sì, 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 e me lo ha confermato anche un mio amico interista con cui ho discusso un po' di questo episodio arbitrale, anche lui mi ha detto clamoroso che il VAR non si è andato a vederlo, quindi ho Pietro un abbraccio che so che sicuramente starei guardando, però sì, mi ha confermato, rientro in questo momento in difficoltà, poi mi ha detto che si fa fatica anche a fare gol, infatti io ribadisco che il gol non segnato dall'Inter alla porta vuota è qualcosa di, secondo me, clamoroso e che forse avrebbe anche un pochettino, no, smorzato le polemiche, no, perché comunque poi il Verona si sarebbe scoperto per un discorso di rimonta, per via di un gol che però avrebbe aiutato sicuramente a superarla con un po' più di tranquillità questo episodio che passerà ovviamente alla storia e sarà molto dibattuto. Però è vero, per me l'Inter è diversa rispetto a 15-20 giorni fa, l'avevo già visto anche col Genoa, anche se lì avevo dato molti meriti al Genoa perché è una squadra, il Genoa, che mette in difficoltà tutti, lo abbiamo visto anche ieri sera con il Bologna, no? Bologna che in questo momento sta facendo un po' più fatica, però è sempre il Genoa alla fine, no? È la squadra che dà fastidio, sono sempre loro. Però l'Inter si è un po' sciolta e allora dato che sono molto onesto, ma in particolare ci sono le prove qui sul canale nel dire che non mi aspettavo una situazione del genere, cioè se quest'estate mi avessero detto guarda che il 6 gennaio il giorno avrebbe fanno la Juventus, anzi l'Inter sarebbe diventata campione d'inverno, ma la Juventus il giorno dopo vincendo sarebbe andata poi a meno due vi avrei detto voi siete completamente pazzi, lasciatemi stare, non ditemi queste cose qui. Quindi per me è una situazione questa molto vantaggiosa per la Juve, per quello che doveva essere, per quello che è effettivamente. E essere a due punti dalla squadra campioni d'inverno, che in questo momento ovviamente non sono due, sono cinque, però vincendo domani con l'ultima in classifica l'evento si porterebbe a meno due dai campioni d'inverno, con ancora uno scontroietto a giocare, anche se purtroppo a San Siro, vi avrei presi per matti, ecco quest'estate vi avrei semplicemente presi per matti. E io non ci credo che la Juventus vincerà lo scudetto, lo sapete, sono ancora un po' scettico, sono ancora dell'idea che questo scudetto sarà nero-azzurro, non ho problemi a dirlo, però io adesso voglio crederci, eh, io adesso non posso prescindere dal fatto di credere che la Juve debba lottare comunque per questo scudetto, che non è credere che la Juve vincerà lo scudetto, però credo che la Juve fino all'ultima giornata a questo punto rimarrà lì, è quello che almeno, forse più che quello che credo è quello che voglio credere, che sono due concetti simili ma estremamente differenti, però voglio crederci e soprattutto voglio ballare, perché siamo lì e perché vedo qualche segno di cedimento da parte dell'Inter e perché, come si è un po' capito anche nelle ultime settimane, l'Inter non è un'isola felice, c'è un po' di nervosismo, lo abbiamo sentito nelle parole di Acerbi, che ha cercato subito di cambiare target e di andare a mettere la pressione alla Juventus, piuttosto che all'Inter dopo lo stop di Genova, subito dire, eh, però anche la Juve lo scudetto lo dovrebbe vincere, anzi per me è il loro obiettivo, così come ha detto Mkhitaryan poche settimane, anzi pochi giorni fa, dicendo no, ma la Juve non è che gioca per la Champions, gioca per lo scudetto, quindi sicuramente dentro l'Inter in questo momento sia dentro il campo, lo stiamo vedendo perché le prestazioni non stanno restituendo all'Inter quell'output chiaro, definitivo, quindi la vittoria magari anche larga e secondo me l'Inter può vincere bene o male contro tutte le squadre in Serie A e anche nelle dichiarazioni fuori dal campo si capisce che un pochettino quell'isola serena tranquilla non lo è più e che si mette anche magari in discussione il fatto che si possa scivolare in campionato con una Juve che è dietro, con tutti i difetti del mondo, con magari anche pochi gol segnati escludendo l'expload di Coppa Italia che non c'entra niente con la Serie A, però la Juve rimane lì, rimane lì, rimane lì, rimane lì, rimane attaccata, rimane attaccata, rimane attaccata, non scivola, difficilmente scivola se lo fa poi dopo poche giornate lo fa pure l'Inter. Qualche settimana fa vi avevo detto, oh, c'ho la sensazione di campionato chiuso, di campionato già chiuso perché non credo che riusciremo a recuperare quattro punti all'Inter. Domani Salerno è tanto facile quanto tanto difficile, ve l'ho detto prima, dipende con che testa approccieremo e con che mood il riferimento a quello che è stato il finale per tutto l'ambiente che si verrà a creare perché sappiamo come siamo fatti in Italia e quindi bisognerà anche capire come i giocatori di Juventus approcceranno questa cosa qua. Però siamo lì e dobbiamo ballare, perché alla fine Simone Inzaghi è tanto bravo nelle coppe quanto non bravissimo in campionato. Se una squadra gli rimane lì, per lo storico che abbiamo perlomeno di Simone Inzaghi in Serie A, lo abbiamo visto col Milan dove l'Inter cade a Bologna con la papara di Radu che non è stato l'unico errore ma l'ultimo e quindi il più pesante che porta lo scudetto al Milan e poi abbiamo un ricordo anche noi perché la lastra di Simone Inzaghi nell'anno del Covid secondo me aveva delle ampie possibilità di vincere lo scudetto e noi siamo stati bravi e fortunati secondo me in quella stagione perché poi c'è stata la pandemia, si è fermato tutto e dopo la lastra che aveva un grosso vantaggio di giocare una sola volta a settimana è stata costretta a giocare ogni 2-3 giorni esattamente come le altre e dopo la lastra è calata e tanto e lo scudetto è arrivato sul petto della Juventus, l'ultimo scudetto dei nove, il primo e unico di Maurizio Sarri. Quindi siamo lì, rimaniamo attaccati, balliamo e soprattutto non molliamo e non facciamoci condizionare da questa partita ma non tanto noi tifosi che non facciamo differenza quanto più spero che dentro la Juve possano tenere ben saldi piedi per terra. Un abbraccio e niente, ci vediamo domani mattina con un contenuto che voglio portarvi, questo non era in programma però ne facciamo un altro domani. Ciao!